Se volete acquistare crediti passate dal link in descrizione Pagina Facebook, sono italiani, economici, veloci e affidabili Link in descrizione E se vi servono PSN Card, Xbox Gift oppure PlayStation Plus oppure Xbox Gold Potete trovare il link qui in descrizione G2A, sono veloci, sicuri e affidabili Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di noi malati di foot Io sono Joe Vispo dello staff di NMF E benvenuti nella player review di Mattia Destro nella sua versione in form con 81 di rating Prima di iniziare questa review, vi invito a lasciare almeno 70 like o mi piace per questa carta e per questa review Perché ce l'avete chiesta tramite i sondaggi che propongo nella sezione community del nostro canale E quindi ve la porto E condividete questo video, iscrivetevi al canale se non lo siete già Partecipate attivamente ai sondaggi che propongo nella sezione appunto community Mettete mi piace alla nostra pagina Facebook Iscrivetevi al nostro canale Telegram e seguiteci su Instagram ragazzi Prima di tutto vi dico che Mattia Destro non mi è piaciuto Quindi non vi aspettate una review diciamo che lo esalti Perché personalmente non mi è piaciuto Però dei pro li ha come il piazzamento Ed è una cosa positiva In quanto mantiene molto bene la sua posizione in campo Grazie anche al 90 in carta 80 in tiro, 86 in finalizzazione Per me è un piccolo contro Sembrava più un 82 perché comunque alcuni gol li ha sbagliati E devo dire mi ha segnato 4 gol in 8 partite O in 9 partite 3 gol in 8 partite Quindi davvero una media bassissima Potenza tiro 80 discreta Tiro dalla distanza 64 Gli avrei dato un 70 sinceramente 75 tiravolo, 74 rigori Work rates medio-basso Discreto Piede preferito il destro E 3 stelle piede debole Le 3 stelle piede debole per me sono un contro Perché di mancino davvero o non fa niente O fa dei tiri o dei passaggi davvero inguardabili E come altezza 178 cm E il colpito di testa però è un pro E devo dire ha fatto 1-2 gol di testa Grazie anche al 95 in elevazione E al 95 in precisione di testa Quindi secondo me è un ottimo colpitore di testa Nonostante non sia un giocatore molto alto Riesce a saltare bene a colpirla In maniera precisa di testa Ritorniamo al tiro Per me è abbastanza deludente Preferisco più il tiro di un immobile base O di un belotti base Perché secondo me c'è da lavorare sul suo tiro Come altro contro Gli do l'accelerazione 78 in carta Mi è sembrato più un 70 E' un giocatore che parte veramente a rilento E che raggiunge comunque una velocità massima discreta Grazie all'83 in carta Come dribbling abbiamo 81-79 agilità Che è discreta 83 equilibrio che è buono ragazzi 64 riflessi 83 controllo palla 81 dribbling 83 freddezza 3 stelle skill Tutto sommato il controllo palla è buono Ma c'è di meglio A volte se l'allunga un po' troppo E quindi diciamo non è proprio un pro il suo controllo palla Le 3 stelle skill ci stanno perché Non è agilissimo E il suo dribbling puro non è niente di che Ci stanno le 3 stelle skill I passaggi per me sono davvero una delusione 70 in carta a me sembrava un 60 Ma non lo metto tra i contro perché un attaccante non deve fare sempre assist Però se fa qualche passaggio decente male non fa Come fisico 78-79 resistenza 79 forza 69 aggressività Il suo fisico tutto sommato è discreto Quel 78 è dovuto per lo più al 95 in elevazione In generale la fisicità è discreta Come tratti abbiamo riferimento centrale Specialità minaccia aerea e rapace Rapace no Più che altro no Come alternativa vi dico Morata tra le Icon Seer 87 Nella Nazione Balotelli Nella Liga Immobile Dello stesso livello Funes Mori in forma Vi consiglio uno stile intesa che vada ad aumentargli la velocità e il tiro Come prezzo 11.000 crediti circa Ed è una carta che vi consiglio di provare Ragazzi Ve lo dico sinceramente No Perché in serie A Abbiamo Icardi Abbiamo Anche Zecco secondo me Di tutto rispetto Abbiamo Immobile Abbiamo Belotti Spendere 11.000 crediti per destro Quando vi potete fare l'attacco Belotti Immobile Per me non ha proprio senso Non vi consiglio di provarlo E il mio voto finale per questa carta è un 6,5 Quel mezzo voto Forse è regalato Perché comunque Non mi ha stupito Non mi ha entusiasmato Non ha fatto tantissimi gol Ha avuto tantissime occasioni per poter segnare Ma non li ha sfruttate appieno Ed è una cosa che mi ha abbastanza deluso Poi Ragazzi Voi avete la vostra opinione Io la mia Se volete esprimere la vostra opinione Vi invito a farlo Tramite un commento qui sotto Sempre in maniera civile Mettete mi piace a questo video Iscrivetevi Condividete Quei Giovispo Vi saluta E vi ringrazia Ciao belli Ciao 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 Grazie a tutti.